maupassant l'oliveto appena scorsero le barche di don vilbois che tornava dalla pesca i uomini del porto il porticciolo di garandon in fondo all'insenatura di pisca tra marsiglia e tolone scesero alla riva per dare una mano a tirarla in secco il prete era solo e remava come un vero marinaio nonostante i suoi cinquantotto anni le maniche rimboccate sulle braccia muscolose la tonaca rialzata e serrata tra le ginocchia un po' slacciata sul petto un cappello a campana di sughero ricoperto di tela bianca sul capo in sostituzione del tricorno posato sulla panchina a fianco aveva tutto l'aspetto di un ecclesiastico dei paesi tropicali più adatto a menare vita avventurosa che a dire la messa di tanto in tanto dava un'occhiatina dietro di sé per vedere bene il luogo d'approdo poi riprendeva a vogare con un ritmo metodico e deciso per dimostrare una volta di più ai cattivi marinai del mezzogiorno come si sappiano fare i uomini del settentrione la barca toccò la sabbia tutta andatura e vi strisciò sopra come se stesse per risalire tutta la spiaggia penetrandovi con la chiglia quindi si fermò di botto e i cinque che lo guardavano arrivare si avvicinarono a fabidi contenti e premurosi ebbene disse uno di loro con un forte accento provenzale buona pesca signor parroco don vilbois tirò i remi nella barca si tolse il cappello di sughero per sostituirlo con il tricorno si tirò giù le maniche si riabbottonò la tonaca quindi ripresi il contegno ai modi di pastore del villaggio rispose con fierezza sì sì buonissima tre cefali due murene e qualche girella i cinque pescatori si erano accostati alla barca e chini sui bordi consideravano i pesci da intenditori i cefali grassi le murene dalla testa piatta schifosi serpenti di mare e le girelle violace striate a zig zag da dorature color buccia d'arancia uno disse ve li porto a casa signor parroco grazie bravo salutati tutti con una stretta di mano il prete si avviò seguito da uno di loro e lasciando agli altri la cura di ricoverare la sua imbarcazione ancora accaldato dalla vogata vigorosa di tanto in tanto passando sotto l'ombra leggera degli ulivi si toglieva il tricorno per sentire l'aria della sera ancora tiepida ma rinfrescata da una lieve brezza marina sulla fronte quadrata incorniciata da capelli candidi tagliati corti a spazzola da una fronte di militare più che di prete il villaggio si mostrava in cima a un'altura nel mezzo di un valloncello che finiva pianeggiante verso il mare era una sera di luglio il sole accecante prossimo a raggiungere la sagoma dentate di lontane colline aggiungeva di traverso sulla strada bianca sepolta sotto un sudario di polvere l'ombra smisurata dell'ecclesiastico e il suo tricorno proiettava nei campi accanto un'ingrandita macchia scura che pareva giocasse ad arrampicarsi a saltelloni su tutti i tronchi degli ulivi che incontrava e quindi ricadeva a terra dove strisciava tra gli alberi i passi di Don Filbois sollevavano nubi di polvere finissima quella specie di farina impalpabile di cui sono ricoperte in estate le strade provenzali di campagna che saliva in fumo sulla balza della tonaca vi formava un'orlatura grigia più intensa in basso e poi sempre più tenue meno caldato adesso egli camminava con le mani in tasca con il passo lento e possente di un montanaro che compie un'ascensione il suo sguardo tranquillo era rivolto al villaggio al suo villaggio dove era parroco da una ventina d'anni il villaggio che gli stesso aveva scelto ottenendolo come grande favore e dove contava di morire la chiesa la sua chiesa sovrastava l'ampio cono di case che le si affollavano intorno con due torri di pietra scura diseguali e quadrate che rizzavano in quel bel valloncello meridionale la loro antica sagoma simili più a difese di un castello fortificato che non a campanili di un sacro edificio il prete era soddisfatto perché aveva pescato tre cefali due murene e qualche girella avrebbe goduto di un nuovo piccolo trionfo sui suoi parrocchiani lui che veniva rispettato perché nonostante l'età era forse l'uomo più ben fornito di muscoli di tutto il paese queste piccole innocenti vanità costituivano il più grande dei suoi piaceri con la pistola sapeva spezzare il gambo di un fiore qualche volta tirava di sciabola con il tabaccaio suo vicino di casa che era stato maestro di scherma nell'esercito e nuotava meglio di chiunque altro nella costa egli era stato d'altronde un uomo di mondo molto noto in passato molto elegante il barone di vilbois e sarà fatto prete a trentadue anni in seguito a una delusione d'amore rampollo di una vecchia famiglia piccarda monarchica e religiosa che da secoli dava i suoi figli all'esercito alla magistratura o al clero aveva pensato in gioventù di prendere gli ordini come gli consigliava sua madre ma dietro le insistenze di suo padre decise semplicemente di andare a parigi per studiarvi legge e prepararsi a un qualche serio incarico in tribunale ma mentre stava finendo gli studi suo padre morì di una polmonite contratta a caccia in palude e sua madre soccombette al dolore poco tempo dopo perciò egli ereditò un grosso patrimonio e rinunciò a qualsiasi carriera contentandosi di vivere da uomo ricco bel giovanotto intelligente benché di mente limitata dalle idee e dalle tradizioni dai principi ereditati come i suoi muscoli riuscì simpatico ebbe successo tra la gente seria e si godette la vita da uomo giovane rigido danaroso e stimato ma gli accadde di innamorarsi di una giovane attrice incontrata qualche volta in casa di un amico una giovanissima allieva del conservatorio che esordì all'odeon con un successo clamoroso se ne innamorò con tutta la violenza di un uomo costruito tutto ad un pezzo se ne innamorò vedendola nella parte romantica che le aveva valso un trionfo il giorno in cui ella si era presentata al giudizio del pubblico era graziosa di natura perversa aveva un aspetto da bambina ingenua che vilbois definiva un'aria d'angelo ella seppe conquistarselo completamente ella seppe conquistarselo completamente farne un forsennato in delirio uno di quei dementi estatici che uno sguardo o le connelle di una donna possono far ardere sul rogo delle passioni mortali egli ne fece la sua amante volle che abbandonasse il teatro e l'amò per quattro anni con ardore sempre crescente e avrebbe certamente finito per sposarla nonostante le tradizioni d'onore della sua famiglia se un certo giorno non avesse scoperto che ella lo tradiva con l'amico che gliel'aveva fatta conoscere il dramma fu tanto più tremendo perché la donna era incinta ed egli aspettava la nascita del bambino per decidersi al matrimonio quando ebbe le prove del tradimento certe lettere trovate in un cassetto le rinfacciò la sua infedeltà la sua perfidia la sua ignominia con tutta la brutalità del semiselvaggio che era ma lei figlia del marzapiede parigino impudente quanto impudica sicura dell'altro uomo quanto di questo arditamente come le ragazze del popolo che vanno alle barricate per semplice bravata gli tenne testa e l'insultò e quando egli stava per picchiarla gli mostrò il ventre Bilbo si trattenne impallidendo pensando che là dentro in quella carne insozzata in quel corpo vile in quella creatura immonda c'era un suo rampollo un suo figliuolo allora si gettò su di lei per schiacciarli entrambi per annullare la doppia vergogna e l'ebba paura si sentì perduta e caduta a terra sotto i suoi pugni vedendo il piede di lui alzato per colpire il fianco turgido in cui viveva già un embrione di uomo tese le mani per ripararsi e gridò non ammazzarmi non è tuo figlio è di lui e gli fece un balzo indietro talmente stupito talmente sballordito che il suo furore restò sospeso al pari del suo piede balbettò cosa? cosa dici? la donna invasa un tratto da una paura folle della morte intravista negli occhi e nei gesti tremanti dell'uomo ripeté non è tuo è suo annientato e gli mormorò a denti stretti il bambino sì tu menti ed un uomo gli fece il movimento del piede che sta per schiacciare mentre la sua amante rialzatasi in ginocchio cercava di indietrezzare balbettando sempre ma se ti dico che è di lui se fosse tuo non avrai già partorito da tanto tempo questa frase lo colpì come la verità stessa si sentì convinto da una di quelle folgorazioni del pensiero in cui tutti i ragionamenti si presentano con lampante chiarezza precisi irrefutabili concludenti irresistibili si sentì sicuro di non essere padre del disgraziato bambino che quella sciagurata portava in seno e sollevato liberato quasi placato a un tratto rinunciò ad annientare quell'infame creatura disse con voce più tranquilla alzati vattene che non ti veda mai più e l'obbedì vinta e se ne andò non la rivide mai più se ne andò anche lui andò a mezzogiorno verso il sole e si fermò in un villaggio nel mezzo di un valloncello in riva al mediterraneo gli piacque una locanda che guardava il mare prese lì una camera e vi rimase lì dimorò per diciotto mesi nel dolore nella disperazione in un completo isolamento visse nel ricordo straziante della traditrice del suo faccino del suo ardore della sua inconfessabile malia col rimpianto della sua presenza e delle sue carezze vagabondava per le vallette di provenza sotto il sole schermato delle foglioline grigiastre degli ulivi con il capo dolorante per l'ossessione che l'occupava in quella solitudine dolorosa le sue antiche idee di pietà l'ardone un po' spento della sua primitiva fede gli tornarono ad agio ad agio nel cuore la religione che in passato gli era parsa un rifugio contro la vita ancora ignorata e appariva ora come rifugio contro la vita ingannatrice e tormentosa aveva conservato l'abitudine della preghiera gli si aggrappò nel dolore e all'imbrunire andava spesso a inginocchiarsi nella chiesa in penombra dove in fondo al coro brillava solitaria la fiammella della lampada sacra guardia del santuario singolo della divina presenza confidò le sue pene a quel dio al suo dio e gli sottomise tutta la sua miseria gli chiedeva consiglio misericordia pietà soccorso protezione consolazione e nella preghiera ogni giorno più fervente egli poneva una sempre più profonda commozione il suo cuore ferito roso dall'amore per una donna si era rimarginato e palpitava sempre avido di tenerezza a poco a poco a forza di pregare di vivere come un'eremita con crescenti pratiche di devozione e di abbandonarsi alla segreta comunione delle anime pie col salvatore che consola e chiama a sé i derelitti il mistico amore di dio vinse in lui l'amore terreno tornò all'antico divisamento e decise di offrire alla chiesa una vita spezzata che poco mancò non avesse dato intatta divenne dunque sacerdote grazie alla sua famiglia e alle sue conoscenze ottenne la nomina parroco di quel villaggio di Provenza in cui il caso l'aveva condotto e dopo aver dato in beneficenza gran parte del suo patrimonio servando per sé soltanto ciò che gli consentiva di essere utile e soccorrevole ai poveri sino alla sua morte si rifugiò in una pacata esistenza di pratiche di pietà e di dedizione ai suoi simili fu un prete di vedute limitate ma buono una specie di guida religiosa col temperamento di un soldato una guida della chiesa che rimetteva a forza sulla buona strada l'umanità smarrita cieca sperduta nella foresta della vita sperduta nella foresta della vita in cui i nostri istinti i nostri gusti i nostri desideri sono sentieri che disviano ma rimase viva in lui buona parte dell'uomo che era stato continuarono a piacergli gli esercizi violenti i nobili sport le armi e detestava le donne tutte con la paura del bambino dinanzi a un pericolo misterioso il marinaio che accompagnava il prete si sentiva in corpo la voglia di discorrere propria dei meridionali ma non ardiva per via della gran soggezione che il parroco esercitava sul suo grezze infine arrischiò dunque disse vi trovate bene nella vostra casetta di campagna signor parroco questa casetta era una di quelle microscopiche costruzioni in cui i provenzali della città e dei villaggi vanno a ficcarsi d'estate per godersi l'aria buona il prete aveva affittato quella scatola in mezzo a un campo a cinque minuti dalla casa parrocchiale che era assai angusta imprigionata nel centro dell'abitato proprio a ridosso della chiesa anche d'estate egli abitava salcuariamente in quel posticino di campagna mi andava a trascorrere appena qualche giorno di tanto in tanto per vivere tra il verde e sparare con la pistola sì mio caro disse il prete mi ci trovo benissimo adesso si vedeva la casetta bassa costruita tra gli alberi dipinta di rosa zebrata sminuzzata tagliuzzata a pezzettini dai rami e dalle foglie degli ulivi piantati nel campo senza cinta e sembrava che fosse spuntata lì come un fungo provenzale si scorgeva anche una donna d'alta statura che andava e veniva in atto di apparecchiare per la cena una piccola tavola sulla quale ogni volta deponeva con metodica lentezza un solo coperto un piatto un tovagliolo un bicchiere portava sui capelli la cuffiettina delle alsaziane una guzzocono di seta o di velluto nero sul quale si rizza un fungo bianco quando il prete giudicò di poter essere udito la chiamò margherite e la si fermò cercando con lo sguardo riconosciuto il padrone rispose ah siete voi signor parroco sì ho fatto una buona pesca friggetemi subito un cefalo un cefalo al burro soltanto burro ben intesi la serva che era venuta incontro ai due uomini esaminava da intenditrice i pesci che il marinaio le porgeva veramente abbiamo già un pollo col riso disse tanto meglio il pesce del giorno prima non è mai come il pesce che esce dall'acqua farò un pranzo coi fiocchi cosa che non capita spesso ed altronde non è poi un peccato troppo grosso la donna scelse il cefalo e portandoselo via si dirò ah un uomo è venuto a cercarvi tre volte signor parroco e gli domandò con indifferenza un uomo che razza d'uomo uno che a vederlo non ispira fiducia cosa un mendicante forse sì non lo so direi piuttosto un mofatè Don Filbois sorrise a quel nome che in provenzale significa malfattore vagabondo delle strade maestre anche perché conosceva il pavido animo di Marguerite e non poteva stare in campagna senza immaginare tutto il giorno e soprattutto tutta la notte che erano sempre in pericolo d'essere assassinati il prete congedò il merinaio porgendogli qualche soldo e siccome aveva conservato abitudini di pulizia e modi di uomo di mondo stava dicendo vado a risciacquarmi un tantino mani e faccia quando Marguerite dalla cucina ovvero intenta a raschiare con un coltello il dorso del cefalo dalla coda alla testa staccando in menute lamelle argente le scaglie un po macchiate di sangue gli gridò eccolo qui il prete si girò verso il sentiero e vide infatti un uomo che veniva ad agio verso casa sua e che da lontano sembrava sai male in arnese l'aspettò sorridendo ancora dalla paura della serva e pensando davvero ha ragione lei sembra proprio un mofotin lo sconosciuto si avvicinava senza frettarsi con le mani in tasca e lo sguardo rivolto al prete era giovane con la barba incolta bionda e ricciuta i capelli gli si arricciolavano a ciocche spuntando da un cappello acenso talmente unto e sformato che non sarebbe più stato possibile indovinarne la primitiva forma e colore aveva indosso un soprabito color marrone un paio di calzoni sfrangiati in fondo calzava ciabatte di corda che gli davano un'andatura dinoccolata silenziosa e inquietante un passo furtivo di vagabondo quando si trovò a poca distanza dal prete si levò il censo che gli riparava la fronte salutando con un gesto alquanto teatrale e scoprendo una testa avvizzita da crapulone calva alla sommità del cranio indice di strevizio di stanchezza precoce in un uomo che non poteva avere più di venticinque anni il prete si levò subito il cappello anche lui indovinando e sentendo che quello non era il solito vagabondo l'operaio disoccupato o il pregiudicato tra una condanna e l'altra che non sa più parlare altro linguaggio che non sia quello misterioso delle carceri buongiorno signor parroco disse l'uomo il prete rispose semplicemente salve non volendo dire signore a quel viandante sospettoso e cencioso si guardarono negli occhi e Don Vilbois sotto lo sguardo del vagabondo si sentì a disagio inquieto come se si trovasse di fronte a un nemico sconosciuto preso da quello strano turbamento che si infiltra con un brivido nella pelle nel sangue infine il vagabondo disse ebbene non mi riconoscete il prete sbalordito rispose niente affatto proprio non vi conosco ah non mi riconoscete guardatemi meglio è inutile guardarvi non vi ho mai veduto è vero continuò l'altro ironico ma voglio mostrarvi una persona che conoscete di certo si rimise il cappello in capo e si sbottonò il soprabito sotto era torso nudo una fusiacca rossa torciliata attorno al ventre incavato gli sosteneva i calzoni sulle anche cavò una busta dalla tasca una di quelle inverosimili buste incrostate di macchie ad ogni sorta una di quelle buste che tra i cenci degli straccioni vagabondi servono a conservare i documenti veri o falsi rubati o legittimi difensori preziosi della libertà contro il gendarme in cui ci si può imbattere e tolse una fotografia uno di quei cartoni grandi come un foglio di carta da lettere che usavano una volta ingiallito frusto strascicato dappertutto da tanto tempo riscaldato dal corpo di quell'uomo e offuscato dal suo calore alzandolo al lato del proprio viso domandò questo lo conoscete e rafferendo fece due passi avanti per vederci meglio e in pallidia sterrefatto perché quello era il suo ritratto fatto per lei ai tempi lontani dell'amore non rispose nulla non capiva il vagabondo ripetè lo conoscete questo? è il prete belbeton ma sì chi è? sono io ne siete certo? e allora guardateci guardateci tutti e due adesso il vostro ritratto e me si era già accorto il pover uomo che i due esseri quello della fotografia e quello che ghignava al lato si somigliavano come due fratelli ma ancora non capiva e barbugliò insomma cosa volete? allora lo streccione con voce cattiva cosa voglio? che mi riconosciate anzitutto ma voi chi siete? chi sono? chiedetelo al primo che incontrate per la strada chiedetelo alla vostra domestica andiamo a chiederlo al sindaco del paese se vi pare mostrandogli questa e si farà una bella risata ve lo dico io ah vorreste negare che sono vostro figlio papà curato allora il vecchio alzando le braccia con gesto biblico e disperato gemette non è vero il giovane gli andò sotto naso a naso ah non è vero reverendo bisogna smetterla con le menzogne mi capite? stava in atteggiamento minaccioso e teneva i pugni chiusi parlando con così violenta sicurezza che il prete indietreggiando si chiese chi dei due stesse ingannandosi in quel momento tuttavia affermò ancora una volta io non ho mai avuto figli l'altro replicò e neanche un amante il vecchio pronunciò risolutamente una sola parola una fiera confessione sì e quell'amante non ve la siete levata dai piedi quando era incinta? d'improvviso l'antica collera soffocata venticinque anni prima non proprio soffocata ma sepolta in fondo al cuore dell'uomo spezzò il masso di fede di rassegnata devozione di totale rinuncia che egli vi aveva deposto sopra fuori di sé gridò l'ho scacciata perché mi aveva tradito perché portava in seno il figlio di un altro se no l'avrei ammazzata e voi con lei il giovane ebbe un attimo d'ecitazione sorpreso a sua volta dalla collera del prete replicò con più calma e chi vi disse che fosse il figlio di un altro lei lei stessa tenendomi la testa allora il vagabondo senza contestare l'affermazione e col tono di un mascalzone che giudica una causa concluse ebbene vuol dire che la mamma si è ingannata nel pigliarvi in giro ecco tutto tornato più padrone di sé dopo lo scatto di furore il prete interrogò a sua volta chi ve l'ha detto a voi di essere mio figlio lei stessa in punto di morte signor parroco e questa e rimise la fotografia sotto gli occhi del prete il vecchio la prese e ad agio lungamente col cuore pervaso dall'angoscia confrontò lo sconosciuto viandante con la propria vecchia immagine e non ebbe più dubbi quello era davvero suo figlio sentì uno strazio nell'anima un turbamento indicibile tremendamente doloroso come il rimorso di un antico delitto capiva una parte intuiva il resto rivedeva la scena brutale della rottura la donna per aver salva la vita minacciata dall'uomo oltraggiato la perfida femmina traditrice mi aveva urlato in faccia quella menzogna e la menzogna l'era servita suo figlio era nato si era sviluppato era diventato quel sordido pezzente vagabondo che puzzava di vizio come un caprone puzza di bestia sussurrò facciamo due passi ci spiegheremo meglio l'altro soghignò certo perbacco loro è venuto proprio per questo si incamminarono assieme a fianco a fianco nell'oliveto il sole era tramontato nel frizzante crepuscolo del mezzogiorno scendeva un invisibile mantello di frescura sulla campagna il prete era brividiva e alzando gli occhi d'improvviso in un movimento abituale all'officiante vide ovunque attorno a sé tremolante sotto la volta del cielo il tenue fogliame grigiastro del sacro albero che aveva accolto sotto la sua ombra lezzera il più grande dolore il solo istante di smarrimento di cristo sgorgò in lui dal profondo una preghiera breve e disperata dettata da quella voce interiore che non giunge alle labbra e con la quale i fedeli implorano il salvatore dio mio aiutatemi quindi rivolgendosi al figlio dunque vostra madre è morta una nuova pena si risvegliò in lui mentre pronunciava le parole vostra madre è morta gli si stringeva il cuore una povera debolezza della carne dell'uomo che non ha dimenticato interamente è un eco crudele della tortura subita ma forse ancor più perché era morta un riflusso della delirante breve felicità della giovinezza di cui non rimaneva altro se non la piaga del ricordo il giovane rispose si signor parroco mia madre è morta molto tempo fa si sono già tre anni il prete ebbe un altro dubbio perché non siete venuto a cercarmi prima l'altro esitò non potevo avevo certi impedimenti ma scusatemi di interrompere queste confidenze che vi farò più tardi particolarezzate finché vorrete per dirvi che non ho mangiato da ieri mattina uno slancio di pietà percolse il vecchio che stendendo le mani disse oh povero ragazzo il giovanotto prese le due grandi mani tese che rinchiusero le sue dita più sottili trepide e febbricitanti quindi rispose con un tono beffardo che di rado mancava sulle sue labbra credo che finiremo davvero per intenderci non crede si avviò andiamo a cena disse adesso pensava con piacere istintivo imprecisato e bizzarro al bel pesce che aveva pescato e che aggiunto alla gallina col riso sarebbe stato per quel giorno un buon pranzo per quello sciagurato ragazzo l'arlesiana scontenta e di già brontolona era in attesa dinanzi all'uscio margherut gridò il prete levate subito la tavola di qui e portatela in salotto svelta svelta e apparecchiate per due subito la domestica rimase sballordita all'idea che il prete potesse cenare con quel manigoldo don filbois diede una mano anche lui a sparecchiare e a trasportare la tavola che era stata apparecchiata per lui solo nell'unica stanza a pian terreno cinque minuti dopo era seduto di faccia al vagabondo davanti alla zuppiara colma di una minestra di cavoli dalla quale saliva tra i loro due volti una piccola nube di bollente vapore appena gli venne versata la minestra nella scodella il vagabondo si mise a ingoiarla avidamente il prete non aveva più fame e sorbiva ad agio il buon brodo di cavoli tralasciando le fette di pane che vi erano inzuppate a un tratto domandò come vi chiamate il giovane soghignò soddisfatto di riempirsi la pancia padre ignoto soltanto il casato di mia madre che probabilmente non avete ancora dimenticato per compenso ho un doppio nome di battesimo che non mi piace molto Filippo August i prati impallidì e con un nodo alla gola domandò ancora perché vi hanno messo questi due nomi il vagabondo si strinse nelle spalle dovreste indovinarlo dopo d'avervi lasciato la mamma ha voluto far credere al vostro rivale che ero figlio suo e quello ci ha creduto fino a che io non ebbi una quindicina d'anni ma da quel momento cominciai a rassomigliarvi un po' troppo quella canaglia mi rinnegò mi aveva dunque messo quei due nomi Filippo August e se avessi avuto la fortuna di non rassomigliare a nessuno o di essere semplicemente figlio di un terzo farabutto che nessuno avesse mai visto oggi mi chiamerei il visconte Filippo August de Pravaillon rampollo riconosciuto tardivamente dal conte dello stesso nome senatore per conto mio mi sono battezzato scalogna come fate a sapere queste cose perché ci sono state delle spiegazioni in presenza mia spiegazioni molto chiare per Dio statene certo ah sono queste le cose che insegnano a vivere il sacerdote si sentiva oppresso da un qualche cosa di più penoso e straziante di quanto avesse provato e sofferto fino allora era come l'inizio di una soffocazione crescente che avrebbe finito per ucciderlo provocata non da ciò che udiva ma dal modo con cui era detto e dalla faccia di canaglia che l'esprimeva tra quel giovane e lui tra lui e il suo figlio gli stava scavando una cloaca di immondizie morali che per certe anime sono veleni letali quello era suo figlio ancora non poteva convincersene ne voleva le prove tutte sapere tutto sentire tutto ascoltare tutto soffrire di tutto ancora gli vennero in mente gli olivi che circondavano la casetta e mormorò per la seconda volta mio Dio aiutatemi Filippo August aveva finito la minestra domandò non si mangia altro reverendo la voce del padrone non sarebbe stata sentita da Margherita nella cucina separata dalla casa in una costruzione attigua e per chiamarla il prete si serviva di un gong cinese che era peso dietro le sue spalle prese perciò il martello di cuoio e colpì parecchie volte la lastra di metallo ne scatturì un suono da prima debole che poi aumentò accentuandosi vibrante acuto acutissimo lacerante orribile lamento del bronzo percosso la domestica la domestica comparve aveva l'aria imbronciata e dava furanti occhiati al moffatain come se avesse presentito con l'istinto del cane fedele il dramma che stava battendosi sul padrone recava in mano il piatto del cefalo arrostito che esalava un odore appetitoso di burro fresco il prete spaccò il pesce per lungo con un cucchiaio e offrì la parte migliore al figlio della sua giovinezza l'ho pescato io stesso poco fa disse con un gesto di fierezza che affiorava ancora dalla sua pena margherite non se ne andava il prete aggiunse portate il vino quello buono vino del capo corso la donna fece quasi un gesto di ribellione ed egli dovette ripetere assumendo un tono severo andate due bottiglie quando offriva il vino buono a qualcuno ne offriva una bottiglia anche a se stesso Filippo August raggiante esclamò magnifico buona idea non ho più mangiato così da un bel pezzo la serva ritornò dopo un paio di minuti che il prete trovò lunghi come l'eternità tanto gli bruciava in petto adesso il bisogno di sapere più divorante del fuoco dell'inferno le bottiglie erano state stappate ma la domestica non si muoveva con gli occhi sbarrati sul giovanotto andate pure disse il parroco ella finse di non aver sentito il prete ripetè quasi con durezza vi ho detto di lasciarsi soli allora la donna se ne andò Filippo August mangiava il pesce con furia vorace e suo padre lo guardava sempre più sorpreso e addolorato dalla bassezza che scopriva in quel volto che pure gli somigliava tanto i pezzettini che Don Filbois si metteva in bocca non gli andavano giù perché la sua gola strozzata ne rifiutava il passaggio masticava a lungo cercando tra tutte le domande che gli venivano in mente quella che avrebbe dato più pronta la risposta desiderata finì per mormorare di che cosa è morta di petto è stata ammalata molto tempo 18 mesi circa come l'era venuta non si è saputo tacquero il prete rifletteva le cose che avrebbe voluto sapere erano tante e lo primevano perché dal giorno della rottura dal giorno in cui per poco non lo uccise egli non ne aveva più saputo nulla e non aveva neanche desiderato di sapere perché l'aveva gettata risolutamente nella fossa dell'oblio lei e i giorni della felicità ma ecco che adesso a un tratto adesso che ella era morta rinasceva in lui un ardente bisogno di sapere un desiderio geloso quasi un desiderio di innamorato soggiunse non era mica sola vero? no viveva sempre con lui il vecchio trasse lì con lui? con Pravaillon? certo e l'uomo che era stato tradito fece conto che la donna che l'aveva ingannato aveva vissuto più di trent'anni col suo rivale quasi senza volere mormorò furono felici insieme? il giovanotto rispose sogginiando certo con alti e bassi sarebbe andato tutto bene se non ci fossi stato io ho sempre scombinato tutto io come? perché? disse il prete ve l'ho già detto perché mi aveva creduto suo figlio fino a che io ebbi quindici anni non era poi neanche troppo stupido il vecchio si è accorto della somiglianza da solo e allora cominciarono le scenate io rigliavo agli usci accusava mia madre di avergliela data a bere la mamma rispondeva ma è stata colpa mia tu sapevi benissimo quando mi hai presa che ero l'amante di quell'altro l'altro sareste voi ah parlavano di me qualche volta sì ma non disse ormai il vostro nome in mia presenza salvo che alla fine proprio alla fine negli ultimi giorni quando la mamma sentì che era la fine non si fidava mica tanto e voi voi avete saputo in tenere età che vostra madre si trovava in una posizione irregolare perbacco non sono mica tanto ingenuo io lasciamo stare e non lo sono mai stato sono cose che si indovinano subito appena si comincia a guardarsi attorno Filippo August buttava giù un bicchiere dopo l'altro gli occhi gli luccicavano e il lungo digiuno gli causava una rapida ebrezza il prete se ne accorse pensò di fermarlo poi gli venne in mente che l'ubriachezza l'avrebbe reso imprudente e loquace e prese la bottiglia fu lui stesso a riempire il bicchiere del giovanotto margherite portò il pollo col riso posò il piatto sulla tavola e piantò di nuovo gli occhi in faccia al vagabondo indignata disse al padrone guardate che è ubriaco signor parroco lasciateci in pace le rispose il prete e vattene e la uscì sbattendo la porta Don Filbois domandò cosa diceva di me vostra madre ciò che si dice di solito di un uomo che è stato piantato che eravate assurdo fastidioso per una donna e che le avreste reso la vita impossibile con le vostre idee l'ha detto spesso sì qualche volta con dei sotterfugi perché non capissi ma io indovinavo ogni cosa e voi come vi trattavano in casa io da principio benissimo e malissimo dopo quando la mamma si accorta che io scombinavo tutto mi ha buttato a mare come come semplicissimo feci qualche sciocchezzuola verso i 16 anni e quei mascalzoni mi misero in una casa di correzione per sbarazzarsi di me puntò i gomiti sulla tavola appoggiò le guance alle palme e completamente ubriaco con la mente stravolta dal vino venne preso all'improvviso da quell'irresistibile bisogno di parlare di sé che fa divagare gli avvinazzati in fantasiose vanterie sorrideva con grazia una grazia femminea delle labbra una grazia perversa che il prete riconobbe subito non soltanto la riconobbe ma la sentì odiata e carezzevole la stessa grazia che allora l'aveva conquistato e perduto in quel momento il ragazzo rassomigliava di più alla madre non nei tratti ma nello sguardo ammaliatore e falso e soprattutto nella seduzione del sorriso bugiardo che pareva di schiudere la porta delle sue labbra a tutte le interne sozzure filippo auguste si mise a raccontare che razza di vita ho fatto io dalla casa di correzione in poi una buffa vita che un romanziare mi pagherebbe a caro prezzo davvero chiedo ma padre nel suo monte cristo non le ha inventate più strane di quelle capitate a me tacque con la filosofica gravità dell'uomo brillo che vuol riflettere quindi riprese con lentezza se si vuole che un ragazzo metta la testa a partito qualunque cosa egli abbia fatto non bisogna mandarlo in una casa di correzione per via delle conoscenze che farà là dentro ne avevo combinata una coi fiocchi io ma mi è andata male una sera verso le nove andavo a spasso con tre compagni ed eravamo un po' bevuti tutti e quattro ed ecco che sullo stradone vicino al leghetto di Folac incontriamo una carrozza in cui dormivano tutti il conducente e la sua famiglia gente di Martinon che era stata a cenare in città io afferro il cavallo per le briglie lo faccio entrare sul barcone del traghetto e il barcone lo spingo in mezzo al fiume si fa un po' di rumore l'uomo che conduceva si risveglia non vede niente e frusta il cavallo parte e salta nella broda con la carrozza tutti affogati i compagni mi hanno denunciato prima mentre facevo lo scherzo si erano sbellicati proprio non c'era venuto in mente che potesse finire tanto male pensavamo a un bel bagno tanto per ridere dopo questa ne ho combinata delle altre più decise per rifarmi della prima che parola d'onore non meritava davvero la casa di correzione ma non vale la pena di raccontarvela voglio dirvi soltanto l'ultima perché questa vi piacerà ne sono sicuro vi ho vendicato babbo il prete guardava suo figlio con occhi terrorizzati e aveva smesso di mangiare philippo augusto stava per ricominciare no disse il prete non ora dopo si girò e con un colpo fece urlare lo stridulo piatto cinese margherite comparve immediatamente il padrone ordinò con voce così dura che il lacchinò il capo spaventata e docile portaci il lume e tutto quel che hai ancora da mettere in tavola e poi non farti più vedere sino a che non ti chiamerò quel gong e la uscì tornò e posò sulla tavola un lume di porcellana bianca incappucciato di verde un grosso pezzo di formaggio la frutta e se ne andò il prete disse risoluto ora ti ascolto Filippo Augusto si riempì tranquillamente il piatto e si versò da bere la seconda bottiglia era quasi alla fine senza che il prete l'avesse assaggiata il giovanotto riprese a parlare barbugliando con la bocca impastata dal vino e dai cibi eccola l'ultima è buona davvero ero tornato a casa e ci restavo contro la loro volontà perché essi avevano paura avevano paura di me a me non bisogna pestarmi i piedi a me io se mi pestano i piedi sono capace di tutto sapete che vivevano assieme e non assieme avevano due domicili lui un domicilio di senatore e un domicilio di amante ma viveva più in casa della mamma che in casa sua perché non poteva più fare a meno di lei era in gamba lei una dritta sapeva come si tiene un uomo se l'era preso corpo ed anima e se l'è tenuto fino alla fine quanto sono stupidi gli uomini dunque io ero tornato e li dominavo con la paura me lo so cavare io quando occorre e in quanta d'astuzia furberia e pugni anche non temo nessuno un certo giorno la mamma si ammala e lui la porta in una sua bella proprietà nei dintorni di Moulin in mezzo a un parco grande quanto una foresta c'è stata circa diciotto mesi come vi ho già detto poi ci accorgiamo che la fine si sta avvicinando lui veniva da Parigi tutti i giorni era molto addolorato proprio dolore vero una mattina rimasero insieme a cianzare per un'ora e io stavo chiedendomi cosa avessero da dirsi quando mi fecero chiamare la mamma mi disse sto per morire e voglio rivelarti una cosa nonostante il parere contrario del conte lo chiamava sempre il conte parlando di lui ti voglio dire il nome di tuo padre che è ancora vivo glielo avevo chiesto cento volte cento volte almeno il nome di mio padre almeno cento volte e si era sempre rifiutata di dirmelo una volta l'avevo anche presa a schiaffi per farla parlare ma non era servito a nulla e in seguito tanto per cavarsela mi raccontò che voi eravate morto senza un soldo che eravate una persona di poco conto un errore di giovinezza uno sbaglio di verginella che so io e me l'aveva girata tanto bene che io ci avevo dato dentro in pieno alla vostra morte dunque mi disse il nome di tuo padre l'altro seduto in una poltrona disse per tre volte fate male fate male fate male Rosette la mamma si tirò a sedere sul letto la vedo ancora con i pomelli rossi e gli occhi lucidi perché tutto sommato mi voleva bene e gli rispose allora fate voi qualcosa per lui Filippe rivolgendogli la parola lo chiamava Filippe e me mi chiamava Auguste egli si mise a gridare come un forsennato per questo crapulone mai per questo farabuto questo delinquente questo 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 ne trovò delle qualifiche per me come se non si fosse mai occupato d'altro in vita sua stavo per arrabbiarmi ma la mamma mi fece tacere e gli disse volete farlo morire di fame visto che io non ho nulla senza turbarsi egli rispose Rosette io vi ho dato trentacinque mila franchi l'anno per trent'anni che fa più di un milione in grazia mia avete vissuto da donna ricca amata e oso dire felice non sono debitore di nulla verso questo sciagurato che si è reso penosi i nostri ultimi anni ed a me egli non avrà nulla inutile insistere ditegli il nome dell'altro se vi pare fate male ma io me ne lavo le mani allora la mamma si rivolse verso di me io pensavo ben onesto per ritrovare il mio vero padre se alla grana sono salvo mi disse tuo padre il barone di Vilbois è oggi don Vilbois parroco di Garandon ed intorno di Tolone era il mio amante e lo lasciai per quest'altro si missa raccontarmi ogni cosa salvo la beffa che vi fece circa la gravidanza d'altronde le donne credete a me la verità intera non la dicono mai ghignava incosciente sfogando liberamente il suo luridume continuò a bere e sempre ilare soggiunse la mamma morì due giorni due giorni dopo abbiamo accompagnato la barra sino al cimitero lui ed io buffo no lui e io e tre domestici nessun altro lui piangeva come un vitello sembravamo padre e figlio quindi torniamo a casa noi due soli io pensavo devo squagliarmela senza un soldo devo squagliarmela senza un soldo possedevo cinquanta franchi in tutto cosa avrei potuto inventare per vendicarmi lui mi tocca un braccio e mi dice devo parlarvi lo seguì nel suo studio si siede alla scrivania poi borbottando tra le lacrime mi dice che non intende essere così cattivo verso di me come aveva detto alla mamma e mi scongiura di non venire a dar fastidio a voi è un affare che riguarda noi due voi e me mi offre un biglietto da mille da mille cosa me ne faccio io di mille franchi un uomo come me vidi che nel cassetto ce n'erano altri un bel mucchio la vista di quella roba mi fece venire la voglia di sgozzarlo allungai la mano per prendere il biglietto che mi porgeva ma invece di ricevere l'elemosina mi gettai su di lui lo buttai per terra gli strinsi il collo finché non gli vidi rivoltare gli occhi e poi quando mi pare che stesse per andarsene gli mise un bavaglio lo legai lo svestì e lo rigirai li ho vendicato in un modo divertentissimo Filippo Augusto toccichiava soffocato dall'allegria e sulle sue labbra sempre atteggiate a un ghigno feroce e gaio Don Villbois rivedeva l'antico sorriso della donna quel sorriso che gli aveva fatto dar di volta al cervello e dopo chiese dopo il camminetto c'era un bel fuoco era dicembre per via del freddo è morta la mamma un bel fuoco di carbone afferro l'attizzatoio lo faccio arroventare e mi metto a fargli delle cruci sul dorso otto dieci non so quante poi l'ho rivolto e gliene faccio altrettante sulla pancia divertente non trovi babbo così si marchiavano i forzati in altri tempi lui si torceva come un anguilla ma l'avevo imbavagliato bene e non poteva gridare quindi presi i biglietti dodici col mio tredici non mi hanno portato fortuna scappai dicendo ai domestici di non disturbare il conte sino all'ora del pranzo perché dormiva ero certo ero certo che non avrebbe fiatato per paura dello scandalo visto che era senatore mi ingannai quattro giorni dopo venivo pizzicato in un ristorante di parigi mi affibbiarono tre anni di prigione ecco perché non sono potuto venire prima a cercarvi bevette di nuovo e barbugliando talmente da pronunziare a malapena le parole adesso babbo babbo parroco buffo avere il babbo parroco bisogna essere carini col pargolo perché il pargolo non è uno qualunque e ne ha combinate di belle ne è vero di belle al vecchio la stessa collera che l'aveva messo fuori di sé davanti all'amante fedifraga riafferrava ora don Valbois di fronte a quel giovane spregevole lui che aveva largamente perdonato nel nome di Dio i segreti infami sussurrati nel mistero del confessionale si sentiva senza pietà senza clemenza per proprio conto e ora non invocava più in aiuto Dio soccorritore misericordioso perché capiva che nessuna protezione celeste o terrestre avrebbe potuto salvare in terra coloro sui quali gravano simili sciagure con l'ardore del suo cuore appassionato del suo sangue ardente sopito dal sacerdozio si risvegliava in rivolta incontenibile contro il suo miserabile figlio contro la somiglianza che aveva con lui e anche contro la madre l'indegna madre che le aveva concepito simile a sé e contro la fatalità che legava a lui quel malfattore come la palla al piede del galeotto e gli vedeva prevedeva ogni cosa con improvvida lucidità risvegliato da quel colpo dal più sonno tranquillo di venticinque anni convinto senz'altro di dover parlare con forza per essere temuto da quella canaglia e terrorizzarla di primo acchito con i denti stretti e senza tener conto dello stato di briacchezza di lui gli disse adesso che mi avete raccontato tutto state a sentire me partirete domattina abiterete in una località che vi indicherò e che non abbandonerete mai senza mio ordine vi passerò una pensione sufficiente per vivere modestamente perché non ho denaro se mi disubbidirete anche una sola volta sarà finita per voi e dovrete fare i conti con me nonostante fosse abbrutito dal vino Filippo August capì la minaccia e subito si mostrò il criminale che era in lui tra i rutti sputò queste parole ah babbo a me non la si fa sei prete sei in mano mia e dovrai filare quattroquattro come gli altri il prete subbalzò e sentì nei suoi muscoli di vecchio ercole un prepotente bisogno di afferrare quel mostro di piegarlo come una canna e provargli che gli toccava cedere diede una spinta alla tavola buttandogliela addosso e gli urlò state in guardia state in guardia io non ho paura di nessuno ubriaco perse l'equilibrio barcollò sulla sedia sentendo che stava per cadere in terra e che era in potere del prete con un'occhiata d'assassino allungo la mano verso uno dei coltelli rimasti sulla tovaglia da un filboa vide il gesto e diede un'altra spinta alla tavola facendo cadere di verso a terra suo figlio la lampada si rovesciò e si spense dopo qualche istante un leggero tintinnio di vetro infranto risuonò nel buio poi si sentì come il frusciare di un corpo molle che striscia poi più nulla spenta la lampada un'oscurità subitanea li avvolse così repentina in attesa profonda che essi rimasero storditi come da un fatto terrificante l'ubriaco addossato alla parete non si muoveva e prete era rimasto seduto piombato nelle tenebre in cui la sua collera affogava il nero velo che gli era caduto addosso fermava la sua collera e anche lo sdegno furante del suo animo si sentì preso da altri pensieri cupi e tristi come l'oscurità si fece silenzio un pesante silenzio di tomba chiusa dove nulla può vivere e respirare e nulla giungeva più dal di fuori né il rotolare di un carro in lontananza né l'abbaiare di un cane né anche l'alitare di un soffio d'aria tra i rami o sui muri passò molto tempo forse un'ora poi il gong risuonò improvvisamente risuonò percosso da un colpo solo duro secco e forte seguito da un gran rumore strano come di una caduta o di una sedia rovesciata margherite che stava allerta accorse ma appena abbia aperto l'uscio indietreggiò spaventata dal buio profondo quindi tremante col cuore che le batteva a precipizio chiamò con voce ansante e sommessa signor parruco signor parruco nessuno rispose non si mosse nulla mio dio mio dio pensò la donna cosa hanno mai fatto cosa è capitato non ardiva a entrare né andare a prendere un lume sentì un desiderio insensato di fuggire di urlare nonostante le gambe non le reggessero e stesse per cadere in terra ripeteva signor parruco signor parruco sono io marguerite ma ad un tratto nonostante la paura il desiderio istintivo di portare aiuto al padrone e uno di quegli slanci di coraggio che possono avere le donne e che le rendono talvolta eroiche riempirono l'animo di esterrefatta l'audacia corse in cucina e tornò col suo lumino si fermò sulla soglia della stanza vide anzitutto disteso lungo la parete il vagabondo che dormiva o pareva dormire poi la lampada rovesciata poi sotto la tavola le scarpe nere e le gambe con le calze nere di Don Vilbois che doveva essere crollato a terra urtando il gong con il capo scossa dal terrore con le mani che le tremavano e la ripeteva Dio mio Dio mio cosa è successo e facendo qualche passettino in avanti lentamente sentì di scivolare su qualche cosa di grasso e poco mancò che cadesse chinatasi si accorse che sul pavimento rosso scorreva un liquido pure rosso che si spandeva intorno ai suoi piedi e andava verso l'uscio indovinò che era sangue fuggì come impazzita abbandonando il lumino per non vedere più e si precipitò attraverso la campagna diretta al villaggio camminava urtando negli alberi con lo sguardo fisso alle luci lontane urlando la sua voce stridula lacerava la notte come il verso sinistro della civetta guardava senza posa il mofatin il mofatin il mofatin giunta che fu alle prime case gli uomini le furono intorno spaventati ma ella si dibatteva senza rispondere perché aveva la testa sconvolta finirono per capire che doveva essere capitata una disgrazia nella casetta di campagna del parroco e un gruppo di uomini si armò per accorrere in aiuto in mezzo all'oliveto la piccola casetta dipinta di rosa era diventata invisibile e nera nella notte profonda e muta dopo che l'unica luce della finestra illuminata si era spenta come un occhio chiuso la casetta era rimasta affogata nel buio sperduta nelle tenebre introvabile per chiunque non fosse del posto le luci correvano rasente terra attraverso gli alberi dirette ad essa seguivano sull'erba rialsa strisce di chiarore zallastro e sotto i barbagli vaganti i tronchi tormentati degli olivi somigliavano talvolta a mostri a serpenti infernali attorcigliati e contorti i riflessi proiettati fecero sorgere all'improvviso dal buio qualcosa di chiaro ed imprecisato quindi il muro basso e quadrato della piccola dimora tornò color di rosa sotto le lanterne deportavano i contadini che accompagnavano due gendarmi con la pistola impugnata la guardia campestre il sindaco e marguerite sostenuta da altri uomini perché non si reggeva innanzi alla porta rimasta aperta spaventevole ci fu un attimo di esitazione il brigadiere afferrato una lanterna entrò seguito dagli altri la serva non aveva mentito il sangue adesso rappreso copriva il pavimento come un tappeto era arrivato fino al vagabondo bagnandogli una gamba e una mano padre e figlio dormivano l'uno con la gola tagliata dormiva il sonno eterno l'altro il sonno degli ubriachi i due gendarmi si buttarono su quest'ultimo e prima che si svegliasse aveva le manette ai polsi si fergò gli occhi stupidito dal vino e quando scorsa il cadavere del prete sembrò terrorizzato come se non capisse perché non è scappato chiese il sindaco era troppo ubriaco rispose il brigadiere e furono tutti di quel parere perché nessuno avrebbe mai pensato che Don Vilbois forse poteva essersi dato la morte che si svegliate e che si svegliate che si svegliate Grazie a tutti.